oggi chiediamo le opere d'arte famose no non sono io oggi parliamo di arte non ne capisco niente meglio così l'arte si sono facilissime ragazzi chi ha dipinto il quarto stato lo fa lui chi ha dipinto la gioconda passo perché questi tempi dovevi dirlo prima che facevi questo tipo di intervista michelangelo la gioconda dipinta leonardo bravo e si trova londra firenze firenze sbagliato no parigi la gioconda luva parigi bravo chi ha dipinto l'ultima cena michelangelo chi ha dipinto l'ultima cena michelangelo l'ultima cena ma il quadro chi l'ha fatto gesù giotto lui lo sa è in camera e questa figlia di merda si chi ha dipinto l'ultima cena l'ultima cena a mo ma che ne so qualche qualcuno della chiesa gesù dunque l'ultima cena non mi sai dire niente non era michelangelo no leonardo aveva fatto la gioconda ecco allora una cosa locale il cristo velato sembra una scultura a napoli bravo dove tutto dato aspetta la chiesa san domenico maggio no qua piazza san piazza di giusno via duomo e faccio una facile la venere di botticelli da chi è stata dipinta una facile chi ha dipinto la venere di botticelli botticelli chi ha dipinto la venere di botticelli botticelli questa è una domanda suggerita chi ha dipinto la venere di botticelli botticelli no 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 c'entra qualcosa con la guernica o l'hai detto così è una dipinta che mi ricordo chi l'ha dipinto l'urlo di munch chi ha dipinto l'urlo van gogh raffaello cristofalo colombo no no che l'hai scoperto l'america chi ha dipinto la vergine delle rocce basta botticelli chi è michelangelo chi ha scolpito la pietà ficasso chi ha dipinto la guernica ma zero sull'arte l'urlo di munch munch no l'urlo no munch chi ha dipinto i girasoli eh bella domanda caravaggio ma non è contemporaneo caravaggio giravo come giro i girasoli gianni fiorelli no oddio di contemporaneo pure van gogh è tanto contemporaneo no non mi viene in mente nessuno per quanto riguarda i girasoli pure van gogh è tanto contemporaneo quindi è van gogh quindi è van gogh ok chi ha dipinto invece notte stellata io mi piace richiapitoliamo la venere di botticelli la dipinta caravaggio l'ultima cena l'ha fatta gesù è come dirgli di no e io vi ho detto all'inizio che non ero un'opera famosa ma lo sono diventata sono adesso l'urlo di Munch 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 l'urlo di Munch